Il comico è fottuto! Il comico è fottuto! Anche lei, con questa storia di Berlusconi, cazzo, eh? Che lei ha detto, no, col Cavaliere, tu Cavaliere, cazzo, ma chiama Lofantino, è alto un metro e dieci, che cazzo di Cavaliere? Ma quando dici Cavaliere, vedi qualcosa di alto, cioè il guardo si ha, il Cavaliere, cazzo, chiama Lofantino, tutto il più gnomo da sella, ma non Cavaliere, ma per amore della lingua, beh, tu che la sai usare dovresti stare attento, però, lascia stare, ma, dico, e dico, no, col Cavaliere è stato solo un rapporto ideale, ci siamo andati solo dei bacini e comunque sta di tappo, per dire che lascia stare, ma, chi c'è in politica? Daniele Capezzone, ma tu l'hai visto che cazzo è Capezzone? Cioè, ex radicale, ex portavoce dell'Unione, ora portavoce in Forza Italia, Capezzone è una trottola, è il politico più apprezzato da Moira Orfei, tu, gira un casino, tu ti distrai un attimo, hai già passato lì tre volte, tu non ti sei ancora. Capezzone gira così forte che se lo mette nel culo da solo non si rende corso. Con Capezzone in politica, con Capezzone in politica sembra di essere a giochi senza frontiere, il tuo schieramento è in difficoltà, la tua parte politica sta soffrendo, qualcuno gioca al giolo e ti trovi Capezzone sulle basi, cazzo, ma eri di là, stai di là, che ero di là anch'io, sono venuto di qua proprio perché di là c'eri te. Guarda che è uno spiazzo incredibile, se tu pensi al parterre, e allora vedi per queste, d'altra ragione, adesso io non voglio occupare tanto spazio, però dico dal momento che su ogni pacchetto di sigarette appare la scritta il fumo ti uccide, secondo me per la stessa ragione su ogni scheda elettorale dovrebbe apparire la scritta il Parlamento ti incula. Allora, veramente, potevamo andare avanti delle ore ma non è il caso. Allora vedi, il comico io credo di trovare spazi, confini, situazioni diverse, allambiccarsi, lavorare più di sintesi probabilmente, sempre con l'obiettivo umoristico, mai con l'obiettivo polemico, se una cosa sta in piedi, se c'è senso comico, altrimenti via, non importa. E allora ti rendi conto degli spiazzi che questo mondo può offrire, per esempio, ecco, la morte, ecco, che è l'antitesi alla comicità, io vedo che si parla di morte, dovremmo tutti andare a stare meglio a quello che ci raccontano, eppure il tema è vissuto con una certa rigidità. Se poi si è coinvolti direttamente, si è veramente rigidissimi. No, ma lo dico perché, spettinando i giochi, perché, eppure, vedi, insomma, dovremmo tutti andare a stare meglio, per dire nel paradiso dei musulmani, sembra che ci siano 40 vergini che ti aspettano, c'è quasi un casting di Buona Domenica, non fosse per l'aggettivo vergine. Ecco, va un po' meno bene nel paradiso dei cattolici, dove sembra che non si batta a chiodo, ma in compenso c'è un panorama stupendo, una vista della Madonna. Ecco, io dico, io sono agnostico e mi limito, spero che nel mio paradiso ci siano almeno un paio di zoccole, cioè meglio due generose rispetto a 40, che se la tengono stretta. Ecco, detto questo, tendiamo, e si tende, a dare, ecco la mistificazione del tempo, è per questo che il comico vive lo spiazzo, un'immagine, anche lì, proprio rigidi, imballati, si tende a dare un'immagine diversa di quello che in realtà non lo siamo. Mi riferisco a quelle scritte, alle epigrafi che si leggono di quando in quando su alcune tombe, e per questo che mi sono divertito a camuffare, cioè a inventarmi, a pensare delle... Cioè, cosa metterei io sulle tombe di alcune degli attuali protagonisti che sicuramente loro, scritte che loro non metteranno mai? Per esempio, sulla tomba di Romano Prodi mi piacerebbe che ci fosse scritto «Finalmente faccio parte di una maggioranza stabile». Sulla tomba di Walter Veltroni, democratico partito. Qui ci potrebbe stare anche un po' scritto, sono sempre stato più di là, che di qua. Ma, ad esempio, per esempio, non so, ma così, a casa, sulla tomba di Piero Fassino, mi decomporrò velocemente, mi sono portato avanti in vita. Sulla tomba di Rosi Vindi, profanatemi, ecco, cioè, ma giusto per non continuare a morire sul serio, guarda che una cosa importante, sulla tomba di Silvio Berlusconi. Quando ho detto dovrete passare sul mio cadavere, scherzavo! Sulla tomba di Veroni Calario, finalmente single, su quella di Pier Silvio Berlusconi, dite a mio padre la prossima volta di giurare sui cani, ecco, scritte così, scritte così. Sì, potrei andare avanti per delle ore. Sulla tomba di Umberto Bossi, finalmente ce l'ho duro! Sulla tomba di Borghezio, stronzi il piscio, corrode il marmo. Ecco, sulla tomba di Andreotti intendo tornare. Sulla tomba di Monsignor Imanuele Milingo, lo sapevo che non c'era, meno male che ho trombato! No, non vi tese, mi avvio a concludere. Sulla tomba di Callisto Tanzi, non piangete sul latte versato. Sulla tomba di Giorgio Armani, bara di Gio, per dire, sulla tomba di Domenico Dolce, ero stanco di voltare Gabbana. Ma potrei andare avanti veramente per delle ore, e non è il caso. Sulla tomba di Mike, buongiorno, ho scelto la cassa numero tre. Sulla tomba di... cazzo non mi vengono i nomi di queste qui. Quella che fa... come si chiama quella trasmissione impossibile con un titolo ribaltato, dove ci sono questi qui che si insultano due ore, c'è 24 ore su 24, si accoltellano alle spalle, esatto. E la trasmissione si chiama Amici. C'era un altro dove c'erano 20 brocchi totali, gente che non avrebbe giocato titolare neanche nel Caronno per Tusella, e il titolo era Campioni! Ma cazzo, come dire che Pupo è Mozart? Cioè, sono cose completamente ribaltate. De Filippi, c'è posto per me. Alessia Marcuzzi, finalmente sono andata di corpo. Sulla tomba di George Bush, vado da Dio e pongo fine alla sua dittatura. Sulla tomba di Bill Laden, zitti, lasciateli ancora cercare. Sulla tomba di Bill Clinton, non inginocchiatevi. Temo l'impeachment. E chiuderei, ringraziando ovviamente i Papu, ma ringraziando soprattutto voi, con quello che io scriverei sulla tomba di Monica Lewinsky. Grazie di essere venuti. Arrivederci. Alberto Patrucco! Alberto! 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 Alberto!